Ciao a tutti, mi chiamo Stefano Poletti, in arte Mike Ryushtick Quindi cos'hai da raccontarci? Cosa ho da raccontarvi? Oggi sono partito a questa matadown in veste più giornalistica che agonistica Oh Pop, attenzione! Aspetta, attenzione Quanto cazzo frenano Oh Pop, Pop! Attenzione Aspetta, passo dentro Attenzione, attenzione, attenzione Scusami, scusami Grazie Attenzione che ci sono Attenzione ragazzi Attenzione Aspetta, posso passarla a qualche parte? Attenzione Guarda che entro Grazie Permesso, passo via a sinistra Permesso, quando è possibile, per favore Quando metti un buco vi chiedo se per cortesia Grazie mille, scusatemi Grazie mille, gentilissimo Adesso rimediato, una sfortunatissima Rottura di, come dire, puleggia Ossia, praticamente ho avuto un piccolo problema Al cambio 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 è andato? Non so, guarda Non si muove più la Cazzo Cioè non capisco cosa sia Cazzo È bloccato questo Vai 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 Grazie Attenzione Attenzione fratello Perché ce n'è sempre una qua È stata molto bella Molto distruttiva come al solito Ma adesso Ma dimmi Ma com'è possibile Che sia successo adesso Ma com'è possibile Non ho preso niente Niente ho preso Ma com'è possibile Porca p***a Cioè non Non riesco a capacitarmi In cosa sia successo Che devo fare Oop Oop Quanto è tempo posso stare A favore Grazie Scusami Dopodiché Ho avuto un piccolo problema La ruota anteriore Nel senso che Ho bucato Però finita Il percorso sempre molto Molto bello Divertente Una delle gare più fighe Allora ci dicono Dalla regia Che passando gli anni Si perde La fantasia Delle rusticate Dalle cadute Passiamo a Effettivamente Quest'anno non ho dato Spettacolo Nelle cadute E anzi Chiedevo Per favore Per cortesia Mi può lasciare passare A quasi tutti i partecipanti Non ho urlato Un solo O Festeggiano Qua alla fine Di questa matadown Con un bel gruppo Da dove arrivate ragazzi? Andiamo da Vicenza Com'è andata? Siamo arrivati in fondo Su sacco soddisfazioni Ma mi dicono Dalla regia Che tu hai fatto Quante edizioni? È l'ottava L'ottava edizione Devo ringraziare Questi ragazzi Perché ogni anno Sono venuti a farla Ed è stato veramente Ogni volta Una consolazione Vederli arrivare E poi c'è anche Chi l'ha fatta Per la prima volta A piedi però Che Un'emozione unica Che cuglione